bentornati su my football jersey rivediamo una maglia che avevamo già visto in versione fan trovate qui in alto la recensione questa è la versione player della seconda maglia della roma per la stagione in corso a la maglia è molto bella devo dire che le maglie della roma di quest'anno a me piacciono tutte questa forse la mia preferita il costo lo vedete qui sopra molto basso per una maglia fatta veramente bene con degli ottimi tempi di spedizione se volete maggiori dettagli trovate tutte le informazioni qua sotto in descrizione andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari quindi il costo di prima diventa ancora più basso ora vi lascio la parte finale prima però iscrivetevi al canale spingete questo pulsante a voi non costa nulla ma ci permette di mostrarvi tutti i giorni recensioni come questa per oggi è tutto alla prossima io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player